De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo Del Balzo ad Avellino. Stamani il comune di Mercogliano ha deciso di intervenire per la presa di possesso dell'area del campo sportivo. Un intervento eseguito dai tecnici del municipio, accompagnati dagli agenti di polizia municipale. Un sopralluogo necessario per verificare lo stato dell'arte si sono limitati a dichiarare gli ammessatori presenti che hanno aggiunto tra pochi giorni daremo vita a una nuova gara di appalto e il comune vanta per la conclusione dell'impianto la somma di 400 mila euro. Potrebbe essere questa la svolta per il campo sportivo di Via Marcone da più di dieci anni chiuso? Se lo augurano i mercoglianesi che al campo, battezzato con il nome del suo ex indimenticato custode Alessandro, sono particolarmente affezionati. Su questo terreno, tormento impraticabile, aggredito dall'erbaccia, ha mossi i suoi primi passi da calciatore anche il vecchio lupo Fernando De Napoli e altre glorie del calcio bianco-verde. Una partita infinita, quella del campo di Via Marcone. Nel 2009 vennero appaltati dal comune di Mercogliano i lavori di ristrutturazione per la somma di un milione e mezzo di euro, fondi attinti dal credito sportivo del CONI. Adatta di consegna, fissava il fischio d'inizio entro un anno. L'operazione di restyling del rettangolo di gioco, che prevedeva un sostanzioso modernamento tecnico iniziare dall'installazione delle torri faro, è finita spesso in fuorigioco. Altro che 12 mesi, tempi biblici dovuti ai contenziosi con le ditte e i paletti imposti dalla sua intendenza per il ritrovamento nel sottosuolo di alcuni reperti. Cinque anni fa lo stoppa ai lavori e il cantiere fermo. Stamane il comune è scelso di nuovo in campo. Rivitalizzare questo impianto consentirebbe ai mercoglianesi di ritrovare un pezzo della loro storia. Inoltre da anni la cittadina ai piedi del Partenio è rimasta senza strutture sportive, chiusi infatti gli impianti della piscina, il centro sportivo, i campi di bocce. Mercogliano fucina di campioni e talenti. A Mercogliano, salvo alcuni piccoli spazi ricreativi, lo sport sembra essere ora una chimera con la presa di possesso del campo di Alessandro. Spariamo di nuovo nella palla centro.